La drammatica testimonianza di Claudio Calia, il fumettista trevigiano che si trovava all'aeroporto di Istanbul durante gli attentati. In scena hanno il divorzio per imbrogliare l'Inps, coppia di anziani trevigiani denunciata dalla Guardia di Finanza. Dopo il max incidente intangenziale, la procura di Treviso indaga per omicidio stradale ancora grave il camionista di Schio. Rimangono serie le condizioni della 56enne ricoverata da ieri in terapia intensiva al Caffoncello per meningite. Accolto nel decreto banche l'ordine del giorno di Simonetta Rubinato, accertare le responsabilità di chi ha portato le banche venete sull'orlo del fallimento. A un vivi il futuro dell'ospedale di Asolo, o si resta ora o si vende, parla il direttore generale dell'Ulss, Francesco Benazzi. Donne vittime di violenza domestica, più di un caso alla settimana nel primo anno di attività del centro antiviolenza di Vittorio Veneto. I gatti dell'Empa hanno trovato temporaneamente casa a Campolongo dopo lo sfratto del gattile dal garage di Via Piutti. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Treviso. Dunque, come avete sentito nei titoli, c'era anche un trevigiano all'aeroporto di Istanbul durante l'attentato che ha provocato più di 40 vittime. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Istanbul, dove si trova ancora bloccato dopo l'attentato di ieri sera. C'erano macerie, c'era sangue, c'erano pezzi di abiti, c'erano scarpe e cose del genere. La testimonianza drammatica arriva direttamente dall'inferno di Istanbul. Claudio Kalia, 39 anni, trevigiano, fumettista di successo, si trovava lì, a pochi metri dall'attentato che ha provocato 41 morti e 239 feriti all'aeroporto Ataturk, in un attacco suicida di probabilissima matrice jihadista. Kalia si trovava all'interno, alla ricerca del gate d'imbarco per una coincidenza verso l'Iraq per motivi di lavoro. Improvvisamente è stato il caos. Ha visto la gente scappare. Era esattamente sopra l'accesso ai voli dove si sono verificate l'esplosione. Dalla finestra ho visto a quel punto erano ambulanze e polizia. È stato poi dopo che hanno proprio sgomberato interamente l'aeroporto. Lunga e lente le operazioni di sgombero dello scalo, in migliaia si incamminano verso l'uscita, passando nella zona degli attentati in un clima di paura e di tensione. Erano state messe in sicurezza le aree degli attentati con dei grandi pannelli di legno a coprirle. Proprio in quel corridoio si è sentito un altro forte botto e le persone automaticamente hanno iniziato a correre all'indietro. A quel punto anche la polizia hanno tirato tutti fuori pistole, fucili e cose. Per 5 minuti si è temuto che ci fosse un nuovo attacco in atto. Invece poi si è capito che in realtà erano caduti due di questi pannelli. Calia è ancora di Istanbul. Sembra che riuscirò a partire questa notte. Chiaramente adesso all'aeroporto hanno esteso la durata del check-in, per cui bisogna presentarsi di tre ore prima. C'è anche tutta la problematica legata ai bagagli. Si dichiara lì che ci vorrà del tempo. Chiaramente nessun volo è assicurato. E ora voltiamo pagina, torniamo a Treviso, per raccontarvi la storia di una coppia di anziani che ha simulato la propria separazione matrimoniale per ottenere migliaia di euro sotto forma di sussidi economici erogati dall'Inps. Ebbene sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza. Insomma lui le valigie non le ha mai fatte. Le valigie non le ha mai fatte. Altro che musi lunghi, piatti rotti, liti furibonde e ore di incontri con i propri avvocati. La coppia scoppiata, scoperta dalla finanza di Treviso, era più accoppiata che mai. Non però per la legge, lo Stato e soprattutto l'Inps. Qui i due erano, o meglio dovevano essere, distinte e distanti sia a letto che a tavola. Nonostante l'obbligo del giurice, imposto dal giurice, di vivere separati di letto e di menza continuavano a condurre la loro vita sotto lo stesso tetto coniugale. La storia è semplice. Lui pensionato, lei casalinga, con figli grandi, casa di proprietà, seconda casa e una terza al mare. Decidono che anche lei deve avere una sorta di pensione. Così in poco tempo trasferiscono le proprietà ai figli e poi vanno dall'avvocato per avviare le pratiche di separazione. Appena usciti dal giudice, senza segni di mantenimento, visto che la povertà provocata li poneva sotto sogliaise, avviano le pratiche per la pensione sociale di lei, che in poco tempo le garantiscono l'assegno all'Inps. Solo che, benedetta informatica, tutta la manovra economico, finanziaria e assistenziale fa accendere al computerone dello Stato il segnale di allerta che fa scattare le indagini della Guardia di Finanza. Prima attraverso degli appostamenti e dei pedinamenti e successivamente attraverso l'installazione di una telecamera. Eccoli, così mentre escono tranquillamente insieme per poi tornare con la spesa comune, in una delle tante intercettazioni ora nelle mani del pubblico ministero, visto che oltre a restituire il maltolto per la coppia c'è pure la denuncia penale. Oltre a una denuncia penale per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato in concorso tra loro. L'operazione è stata chiamata divorzio all'italiana in ricordo del film, anche se a guardare bene sarebbe più un divorzio alla trevigiana visti gli ideatori, per una trama che forse non piacerebbe però a Germi. Perché pensiamo che dall'incrocio di questi dati questa tipologia di truffa possa essere replicata e quindi saremo molto attenti su questo settore. Anche perché se non si accorgono loro non se ne accorge nessuno. Se non dovesse essere scoperta in tempo porterebbe i suoi danni alle casse dello Stato per tempo indeterminato. Se vi sembra singolare la storia di questo divorzio alla trevigiana, così come l'abbiamo definito, ebbene vi sbagliate perché a quanto pare sono diverse le coppie, anche nella nostra provincia, che decidono di separarsi per risolvere i propri problemi. Che cosa succede? Che a volte se ci sono dei creditori, che possono essere privati o pubblici, le persone possono anche decidere di separarsi, anche se formalmente poi non lo fanno. E si separano, così vengono divisi i patrimoni, magari poi eliminano anche le proprie proprietà e quindi non sono più aggredibili dai creditori. Altro che fino a che morte non vi separi, a Treviso la regola è finché c'è convenienza stiamo sposati, ma al primo accenno di debiti o di traballamenti economici ognuno per la sua strada. Almeno formalmente, perché poi quando nessuno ci vede, ma anche no, la nostra vita di coppia continuiamo a farla tranquillamente. Scappatoia è che la crisi è accentuato al punto da non capire se il picco delle separazioni di questi ultimi anni si è aumentato per litigiosità o per dissesti finanziari. Fatto sta che oramai anche gli avvocati, come dire, ci hanno fatto l'occhio. Cos'è che scatta spesso in queste condizioni? È perché magari negli atti di separazione dove noi dobbiamo scrivere che uno dei due coniugi deve lasciare la casa familiare, spesso magari i coniugi dicono sì, lo faremo con calma e mettono un tempo indeterminato nel sciogliere, diciamo così, la comunione e la convivenza. Sta a noi anche avvocati essere chiari e far capire al cliente che non si deve frodare la legge. Si profila l'iscrizione nel registro degli indagati per il cinquantenne di Schio che si trovava al volante del mezzo pesante che ha tamponato l'auto di Stefano Manessu il cinquantasettenne di Preganziol morto nel terribile incidente avvenuto ieri mattina allo svincolo tra la tangenziale e la Treviso Mare. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. L'uomo al momento si trova ricoverato in gravi condizioni al caffoncello e è stato sottoposto a dei prelievi ematici. Non si esclude che alla base dell'incidente ci possa essere stato un improvviso malore. Ed è ancora ricoverata in terapia intensiva. Siamo sempre al caffoncello. La donna di 56 anni affetta da meningite di meningococco di tipo B ricoverata da ieri pomeriggio. Secondo i sanitari le sue condizioni rimangono serie. La donna, residente in provincia ma che lavora nel veneziano, si era presentata ieri al pronto soccorso dove era stata sottoposta agli esami di laboratorio effettuati dalla microbiologia. La direzione dell'Ulss9, informando come sia già stata effettuata la profilassi sui familiari della donna, ricorda che il meningococco si trasmette solo attraverso un contatto molto stretto, non come un comune raffreddore. Ora voltiamo pagina e ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che ci si trova per noi al Consiglio Comunale di Treviso per sentire le ultime novità. Buonasera Lucio. Buonasera Filippo, buonasera a tutti i telespettatori. Molto velocemente il Consiglio Comunale è animato oggi da un flash mob e dalle polemiche per la pista ciclabile di Viale Montegrappa nonché da un riferimento per Veneto Banca di cui più tardi sentiremo delle novità. La prima cosa è il flash mob contro i femminicidi. Sapete gli ultimi fatti di cronaca hanno fatto sì che ci sia stato un ordine del giorno a firma del Consiglio Comunale Petra De Zanetti in cui si chiede maggiore attenzione a questo tema soprattutto per quanto riguarda la scuola, cioè l'insegnamento e che il Consiglio Comunale prenda posizione. Poi c'è stata una polemica con l'assessore Michelan per quanto riguarda la pista ciclabile di Viale Montegrappa che si sta costruendo ma che sta creando notevoli problemi e notevoli apprezzioni sia per quanto riguarda i ciclisti sia per quanto riguarda i commercianti in zona. Infine, sempre nell'ordine del giorno, anche la discussione su Veneto Banca e soprattutto sui danni che sta creando la situazione economica della Banca e della Popolare di Vicentina anche in città a tanti risparmiatori ma anche a tanti imprenditori. Domani un servizio più approfondito, a te la linea di nuovo studio. Grazie a Lucio Zanato e come avete sentito, come vi è stato preannunciato, ci sono novità che riguardano Veneto Banca. La prima arriva direttamente da Roma dove il Governo si è impegnato ad accertare fino in fondo le responsabilità di chi ha portato Veneto Banca e la Popolare di Vicenza sull'orlo del fallimento. Non solo si è anche impegnato ad estendere in futuro, se ci fossero le medesime condizioni, le misure volte al ristoro degli investitori dei quattro istituti di credito in liquidazione e anche agli investitori delle due banche venete e infine introdurre misura di tutela delle imprese esposte con affidamenti presso Veneto Banca e Popolare di Vicenza che si trovano oggi in crisi di liquidità. Il Governo in aula alla Camera ha accolto durante la conversione in legge del decreto banche l'ordine del giorno predisposto dall'onorevole Simonetta Rubinato e sottoscritto anche dai colleghi veneti Ginato, Moretto, Rotta, Demenec, Mognato, Zardini e Naccarato. E della crisi delle popolari venete oggi ha parlato anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Sentiamo. A me piace l'idea che queste due banche che sono in grossa difficoltà Popolare di Vicenza e Veneto Banca possano avere un percorso di fusione e dopo da lì ripartire. Lasciare che l'operazione Atlante faccia il suo corso per poi pensare ad una banca veneta è il risultato della fusione tra Vicenza e Montebelluna. Una prospettiva non impossibile per il governatore del Veneto che parte da una semplice considerazione. Atlante non ha come compito la gestione delle banche ma avviare una ristrutturazione dopodiché venderla sul mercato. Un mercato che si troverebbe in mano con le imprese il Veneto che produce uno dei tre motori economici italiani. Una situazione che impone delle garanzie per i territori. Io un anno fa ho scritto addirittura a Renzi, a Draghi e così via per dire guardate che il governo deve entrare con le garanzie. Si è iniziato timidamente con Atlante si parla già di un Atlante 2 ma si parla anche di un grosso investimento sul mercato bancario. Ricordo che la Germania lo ha fatto in anni non sospetti e non è nelle stesse condizioni nostre. Una banca che comunque non potrà non rispondere al passato. Ma è anche realizzabile pensare che queste due banche si fondano e che mettano come primo obiettivo del loro piano industriale quello di, ad esempio, quegli utili andare a risarcire tutti gli azionisti che hanno perso tutto e iniziare dei piccoli azionisti. Non deve mancare però un intervento da parte del governo perché non è possibile che i guai delle banche le paghino poi i cittadini. C'è un'altra novità importante giunta pochi minuti fa che riguarda Veneto Banca perché Atlante avrà il 98,86% dell'istituto di credito. Questo significa che tutti i soci che avevano eseguito l'aumento di capitale circa il 2,2% del buc era stato coperto hanno dato disdetta alla luce della mancata quotazione. Domani atteso il regolamento dell'operazione ovvero Atlante verserà un miliardo di euro e otterrà le azioni. Ora voltiamo pagina e parliamo di sanità e dell'ospedale di Asolo che si trova davanti a un bivio. È un bivio il futuro dell'ospedale di Asolo. Arriva a dirlo anche a sindaco e consiglio comunale riunito qualche settimana fa il direttore generale dell'Ulstre Francesco Benazzi consapevole che ogni possibile cambiamento non sarà in dolore. Due le possibilità ribadite dal responsabile della sanità della marca. Vendiamo l'attuale sede di Asolo e dal risultato della vendita creiamo il nuovo distretto socio-sanitario in un'area diversa da quella attuale. L'altra opzione potrebbe essere quella ristrutturiamo nei limiti ovviamente di un budget molto ridotto Asolo e pensiamo di collocare all'interno ovviamente dell'ex sede distrittuale una medicina di gruppo integrata con i colleghi medici che diventano polo di riferimento per tutta l'area dell'Asolana. Prospettive appare non molto apprezzate dalla comunità Asolana memore di una struttura che continua nominalmente a definire tutto il territorio ad ovest della marca. Ridurre lo storico ospedale a centro medico di base o addirittura venderlo a privati per molti è un calice davvero amaro da accettare. Oggi io devo formalizzare queste proposte all'amministrazione perché è bene formalizzarle poi col sindaco ci troveremo credo che un passaggio importante vada fatto soprattutto con la regione visto questo credo che poi alla fine troveremo una soluzione che andrà bene sicuramente ai cittadini dell'area dell'Asolana. Vendita o ristrutturazione quello che non cambierà è comunque il servizio agli asolani e non solo. Sia facendo il distretto nuovo dove ovviamente gli spazi saranno più ampi e soprattutto la funzionalità sarà migliore magari anche con potenziamento dei servizi oggi chiaramente la vecchia sede non permette un potenziamento perché andrebbero ristrutturate le parti e sarebbe un costo eccessivo però anche mantenendo la vecchia sede inserire una medicina di gruppo integrata credo che possa essere una scelta che sicuramente fa piacere ai cittadini dell'Asolano. E di Sanità Veneta anzi di Riforma della Sanità Veneta si occupa il nostro Tg Linea Aperta di questa settimana allo spazio del telegiornale riservato alle vostre opinioni Riforma Sanità Veneta Chi rema contro? Come sempre potete esprimere la vostra opinione inviando un sms un fax o una mail ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Compie un anno il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto ed è tempo di bilanci. Quell'uomo che si è rivolto al Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto perché si sentiva perseguitato dall'ex moglie rappresenta un'eccezione tra le tante donne che nel corso di questo primo anno di attività hanno chiesto aiuto a questa struttura la prima in provincia di Treviso ad essere interamente gestita con risorse comunali. Purtroppo un servizio molto utilizzato 75 casi vuol dire più di uno alla settimana i conti sono presto fatti e quindi insomma siamo soddisfatti del fatto di averlo aperto perché significa veramente che il Centro Antiviolenza serviva avremmo preferito non avere tutto questo successo sicuramente. Al Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto si sono rivolte donne di tutte le età anche dalle province di Belluno e di Venezia in una forbice che supera i 70 anni partendo da una minorenne e passando per casi come quella giovanissima che si è rivolta al CAV dopo le insistenze di un coetaneo conosciuto in chat col quale si era scambiata foto molto intime per tutte c'è stato un aiuto consulenza psicologica consulenza legale e poi eventualmente invio ove necessario ai servizi specialistici o alle forze dell'ordine alla magistratura l'aiuto offerto a chi si rivolge al CAV non deve far perdere di vista ciò che rimane l'obiettivo principale di qualsiasi società che voglia definirsi civile e la prevenzione se le nuove generazioni educate prima in famiglia e poi un ruolo di aiuto che è quello della scuola soprattutto speriamo che le generazioni prossime non abbiano più necessità di questo tipo di iniziative prevenzione e supporto alle vittime di violenze non solo fisiche ma anche psicologiche sono tra le linee guida degli interventi nell'agenda del ministero dell'interno ho istituito nelle scorse settimane un tavolo apposito ovviamente i comuni di tutta la provincia le associazioni datoriali ovviamente la USLE le associazioni di categoria e credo che sia importante che si faccia veramente squadra per gestire al meglio quello che c'è da fare ragazzi siamo i colleghi di La Tenda TV che hanno collaborato alla realizzazione di questo servizio e rimaniamo a Vittorio Veneto dove una donna di 74 anni è riportato gravi ferite dopo essere stata investita da un autocarro la donna era uscita in casa per rincorrere e salvare il proprio cane che era scappato fuggendo fuori di casa per strada nonostante le ferite piuttosto gravi la donna non sarebbe in pericolo di vita sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e ora ci spostiamo a Conegliano invece parliamo di gatti perché il gattile di Conegliano ha trovato una nuova sistemazione provvisoria tutto quello che serviva dal punto di vista della procedura si è concluso l'associazione dell'EMPA può partire in qualsiasi momento a realizzare l'opera mi auguro che lo faccia il più presto in attesa di una sistemazione definitiva i gatti dell'EMPA hanno trovato temporaneamente casa vicino alla zoppa sarena in un fabbricato di via Cadivilla a Campolongo il problema a Conegliano si è aperto all'indomani dello sfratto del gattile dal garage di via Piutti per la nuova sede dell'EMPA si è già trovato il luogo in un'area offerta in concessione dal comune per 40 anni in zona Campilui ma affinché la nuova struttura non sarà realizzata c'era bisogno di una sistemazione temporanea per i gattini sfrattati una soluzione arrivata grazie ad uno stabile di proprietà della casa di riposo Finzi al momento inutilizzato avendo un fabbricato inutilizzato in una parte della città l'ha messo a disposizione per un ricovero temporaneo degli animali però giustamente questi gatti vanno destinati al loro luogo di raccolta e di accoglienza e quindi mi auguro che i lavori dell'EMPA possano partire il più presto sempre la grande attualità vista dal Veneto e dai Veneti questa sera Focus in diretta su Rete Veneta a partire dalle 21.05 ospiti del direttore Luigi Bacialli Elena Donazzan Simone Scarabella Pietro Dallalibera Luca Antonini Vivian Moro Marco Zabotti e Patrizio Miatello come sempre aspettiamo i vostri sms così come aspettiamo le vostre telefonate domani mattina a partire dalle 8.10 a Sveglia Veneti la rubrica quotidiana di Rete Veneta condotta da Lucio Zanato e Mirella Tuzzato con questo per stasera da Treviso è tutto grazie per averci seguito arrivederci a Sveglia Veneta Grazie a tutti. Grazie a tutti.